benvenuti amici del canale oggi siamo in mountain bike precisamente con l'e-bike la famosa bicicletta elettrica e faremo un ginata e vediamo se riusciamo a fare anche qualche dronata perché non è detto che andare in bicicletta vuol dire essere solo pedalare vi ricordo se non l'avete già fatto mettete un bel like iscrivetevi al canale buona visione ciao a tutti stiamo continuando a pedalare paesaggio notevole temperatura gradevole un piacere pedalare con le bai a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.